Salve a tutti i friends, è il vostro SuperCoreistGamer Eccoci qua ragazzi, vi avevo detto che avremmo passato la carriera di Superbike su questo canale Chiaramente la trovate anche sul primo perché la playlist verrà aggiornata E qui sul secondo trovate i video del primo che non abbiamo fatto qua Allora, il nostro Valerino, Valerino Bassifossi Deve fare un'altra gara qui a Aragon perché ancora finiamo, gara 2 Vediamo un po' cosa accadrà E' molto ingarbugliato il weekend di Superbike perché non si capisce, si fa una gara, quelle, quell'altra Però va bene così Ci buttiamo in gara, andiamo a mettere le gomme al nostro Valerino Bassifossi Che ci vuole regalare le più grandi soddisfaction Minchia, ci erano finite pure le gomme Dai Valerino, facci godere Come al solito ragazzi, l'invito è quello di iscrivervi a questo e al Primo canale SuperCoris84 Lasciate un like sui video sui miei social Sul canale Telegram delle offerte SuperCoris offerte Amazon Dove tutti i giorni mettono migliore offerte di Amazon in ambito tecnologia Eccolo qui il nostro Valerino No, no, cazzo, in ambito tecnologia e videogiochi C'è Fruit Lab, c'è Twitch, c'è il nostro canale ufficiale SuperCoris84 Per le news in anteprimi sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sul mio Sui miei canali Stasera su Twitch alle 22 meno qualcosa Ci sarà la prima live di FIFA 23 Video di FIFA 23, il primo video già lo trovate sul canale E troverete altri video oggi Quindi ragazzi, stasera tutti belli pronti live su Twitch Perché ci divertiamo Partiamo Si parte Franz Dai Valerino, facci godere Ah, Valerino già viene preso Very aggressive, Valerino in prima curva Vai Valerì Oh, largo Valerino Sbaglia Si rimette dentro Bassi Fossi E si riprende la posizione Oh, chi è questo? No, Valerino Dai Oh, vai, mamma Basta, no Si, prova a riavvicinare Valerino con una staccata Che non va Eh, ragazzi Stiamo a fare degli errori Molto di merda Ah, si rimette dentro Valerino Mappa 3 Si riavvicina a Bjergé Bjergé Qua cazzo si chiama questo? Si riavvicina a Bassi Fossi Prende la scia Si prova a far vedere Ma non va Ci prova Valerino In tutti i modi Oh, no, no, eh, raga Eh, sto a prendere il freno La scia ma ballerino che si deve provare a reinserire rischia tanto ballerino no, largo, ballerino metta a tavoletta la sua Yamaha R1 si riavvicina ballerino prende una bella scia qua oh my god si botta entro ballerino ne fa fuori due dai fa fuori due ballerino si rimette in un colpo solo in top 10 tieni ballerino il balle si punta il freno la perde la recupera all'esterno ballerino madonna che ha fatto ballerino tutta all'esterno supremacy vai il balle vai il balle mappa 3 si prova a intrufolare dentro Van Der Mark e arriva Valle arriva Valle arriva Valle stacca la zona di Valle ah largo è arrivato troppo forte la tiene Valle la tiene Valle penultimo giro jebba lo fa fa la curva questo ottavo posto epico per il nostro Valle bassi fossi dai Valle è improponibile andare a prendere quelli davanti ragazzi ma qua dobbiamo cercare solo di tenerci sfrutta la pista ballerino bassi fossi e anche di più un po' largo qua va Valle va Valle mappa 3 peccato che sono scappati avanti mappa 2 adesso Valle deve solo amministrare e arrivare e arrivare madonna quanto si muove prende il cordolo pieno Valle che non vuole allargare qua la traiettoria percepisce gli avversari molto vicini ma largo qua Valle si vuole rimettere subito dentro Valle ne perde 2 prende la scia prende la scia di Verge addirittura addirittura all'esterno ballerino anche all'interno mi è arrivato troppo sparato troppa scia e va Valle e va Valle e va grande vittoria di ballerino bassi fossi grande vittoria grande vittoria si è arrivati ottavi grandissimo risultato è il nostro ballerino ragazzi e vai cazzo grandissima gara andiamo a vedere la classifica come sta messa per tutte queste gare perché ne abbiamo fatte 25 ah non ho capito qua io non capisco come funzionano i sistemi di punteggio comunque ballerino decimo in classifica 14 punti ragazzi e io direi che in questo momento ci possiamo fermare così voglio e ci vediamo nei prossimi video dalla prossima puntata faremo tutto il weekend di gara facendo gli opportunità gli ciao raga ciao 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 ciao